ciao a tutti oggi vorrei parlarvi di batteria e di come creare una parte di batteria che non sia monotona e quindi non il classico loop che fa la stessa cosa dall'inizio alla fine ma qualcosa che fin da subito sia umanamente parlando interessante cosicché questo ci permetterà poi in fasi successive di avere un po di pathos nella creazione dei nostri pezzi originali e per far questo sfrutterò il grammar e vi farò vedere delle cosine che probabilmente sfuggono di primo acchitto e perché in realtà il grammar è più particolare di quanto si possa immaginare andiamo a creare una clutch audio giusto per partire da niente vado a scegliermi un tempo che può essere 90 bpm e adesso vado a crearmi una clutch al rammer e scelgo come genere un alternative giusto per quando io creo una nuova clutch al rammer logic mi creerà in automatico una nuova regione con otto misure adesso vado a scegliermi sentiamo un po innanzitutto cosa fa clicco su questo piccolo play e sentirò la mia regione in play in solo e in ciclo andiamo a cambiare un po il personaggio ok partiamo da questa base qua se io clicco sul segno più qua logic mi creerà altre regioni sempre di otto misure e così facendo mi creerà il brano ma non è così che a me piace partire perché sennò sarebbe sempre monotono è vero che io posso modificare la singola regione posso posso cambiarci il pattern ma comunque sia siamo ancora in modalità molto basiche se invece ho un concept di canzone ecco che posso creare fin da subito un arrangiamento interessante e per fare un concept di canzone io sfrutto la global track cioè premo questo pulsante o la lettera g e qua vedete che c'è l'arrangement track e la marker track le esploreremo entrambe perché sono molto importanti allora adesso vado a creare una traccia arrangiamento basica di una canzone con un arrangiamento normalissimo il classico strofa di tornello strofa verso di tornello e uno special vediamo un po clicco sul segno più lui mi ha creato otto misure di intro ai fini di questo esercizio lo vado a accorciare a 4 clicco sul segno più di nuovo mi avrà creato otto misure di verse clicco sul segno più otto misure di chorus va bene clicco di nuovo sul segno più faccio un verse dimezzato lui ha scelto bridge io vado in orderly verse lo rinomino in verse 2 e lo accorcio a 4 misure qua vado a crearmi uno special bridge special chiamatelo come ci avete voglia ai fini di questo esercizio lo accorcio a 4 misure giusto per fare delle prove ultimo chorus che chiamerò chorus 3 in questo caso qua lo faccio doppio proprio là un arrangiamento hiper standard di 16 misure mi aiuto con l'apti tag vedete lunghezza 16 più 8 e poi faccio il finale l'outro vado qui faccio l'outro di quattro misure ecco qua se voi non vedete i marker colorati è perché non li avete impostati qua nelle preferenze nei setting dipende dalla versione logica che avete se andate su display sotto tracks vedete che potete assegnare anche i colori ai marker ok poi in questa fase qua e di solito per evitare di avere regioni lunghissime vado sicuramente a accorciare la mia song predefinita la vado a portare a lunghezza della mia canzone in questo caso qua vediamo un po con view secondary ruler quanto sarà lunga è solo due minuti e venti ma mi serve soltanto per farvi capire cancello pure la mia regione audio e qua adesso dove c'ho la mia famosa batterista faccio clic col tasto destro populate with grammar regions ed ecco che la nostra batterista avrà creato e popolato di batteria la mia canzone e avrà già messo il nome esattamente come nell'arrangiamento ora io vado con shift e con shift vado a selezionare le regioni dello stesso diciamo parte musicale quindi i due verse con option c apro la color palette e vado a colorare diversamente le regioni idem per i chorus poi faccio la stessa cosa per intro e outro e bridge va bene giallo cosa faccio visto che la claccia arrangiamento potrebbe darmi delle problematiche io la vado a nascondere ma per nasconderla voglio prima di nasconderla voglio crearmi comunque un riferimento visivo attraverso i marker seleziono l'intestazione di traccia in automatico mi avrà selezionato tutte le mie regioni vado sulla scritta marker crea marker dalle regioni e come vedete mi ha creato la claccia marker esattamente con il nome e il colore delle regioni che ho selezionato adesso posso nascondere la global questo è molto utile perché nel momento in cui avrò molte regioni magari avrò zoomato il basso che cosa qua in alto vedrò sempre dove sono con i vers con le strofe con i ritornelli adesso andiamo a ascoltare un attimo cosa ha fatto la nostra niki scusate un po di latenza video classica sta col secondo monitor che magari mi aiuta vediamo un po e qua mi ha creato dei passaggi tra le regioni cosa posso fare io posso ancora differenziare le parti se io faccio doppio clic su questa regione qua vedete che ho questo preset ma io volendolo posso ancora dimezzare posso con le command click tool quindi il marquee tool in questo caso vado a dividere questa regione qua e la prima parte magari la faccio più semplice senza rullante la seconda parte invece la faccio magari un po più complessa con il rullante andiamo a sentire ed ecco che sto già creando un qualcosa di sicuramente un po più interessante che poi si svilupperà in un ritornello e anche qua magari la seconda parte di questo primo ritornello lo rendo più complesso più complesso e sarà magari la stessa cosa nell'ultimo e quindi vedete che io posso ridurre pezzettini e clattarli tutti diversamente tipo quest'intro qua che adesso ho tagliato così posso renderlo semplicissimo solo con dei piatti adesso qua siamo nella seconda parte dell'intro parliamo poi di suono perché comunque qua abbiamo un unico canale per tutta la batteria se io voglio cambiare degli elementi del suono non è un problema clicco su suono e poi clicco sulla batteria ed ecco che qua io ho la possibilità di cambiare tre casse o tre rullanti ma avrò il limite di avere comunque sempre un unico canale del mixer se io invece voglio esplodere questo suono vado a scegliere il kit di riferimento nella library in questo caso il for on the floor e vado in basso nella la library ho già scritto producer kit e clicco su for on the floor dove c'è il segno più e mi si creerà questa folder se io opero il mixer vedrò questa folder anche qui questa folder la posso espandere ed ecco che qua adesso io ho il multitratch ovviamente con tutte le possibilità di un multitratch posso mettere i compressori delay gate qualsiasi cosa voglio ogni singolo suono e se adesso vado a cliccare sul suono non avrò solo una cassa ma ne avrò molte non ne avrò solo tre ma molte da poter testare i charlie tom insomma posso provare tante cose una volta che io ho ottenuto il suono che veramente fa per me posso andare a oracle e dire ok posso ad esempio convertirlo in midi per farlo semplicemente prendo questa intestrazione di traccia e tasto destro convert to midi region e qua posso modificare le singole note tagliarle copiarle incollarle fare esattamente quello che voglio immaginiamo che io sta parte qua adesso l'ho risolta e mi piace voglio convertirla tutta in un audio multitratch perché voglio andare in mix voglio andare a divertirmi con i suoni semplicemente trascino tutto nella prima traccia ecco qua mi ha convertito tutto in midi seleziono questa prima intestrazione di traccia vado su file bounce track in place gli dico di crearmi delle nuove tracce e di farmi il tutto come additional tracks gli do l'ok e adesso lui mi farà un bounce un'esportazione di tutti i singoli canali della batteria in uso in audio e sarà tutto molto più comodo perché ovviamente occuperà meno risorse eccole qua adesso la prima regione degli overhead midi la posso cancellare e qua c'ho la mia bella batteria audio che poi posso posso mixare come mi interessa nelle parti in uso e tutto il resto posso ovviamente cancellarlo perché vuol dire che qua non c'è niente un'altra cosa adesso io qua sono sicuramente in un gruppo quindi ho tutto in un bus quindi ho già in automatico creato un sottomix di batteria se io volesse andare a tagliare queste parti dove non c'è niente ctrl x e vedete che con ctrl x io vado a dirgli a logic di farmi tante piccole regioni tante piccole regioni in base al limite che li do io in decibel posso anche creare pre attacco post release dove io invece che andare a creare tante piccole regioni tolgo soltanto i vuoti ecco che qua vedono esattamente dov'è che suona ctrl x ecco qua anche quando tagliare il vuoto vediamo anche qua qua c'è solo tre regioni guardate com'era guardate cosa è rimasto ctrl x quindi ho alzato molto la threshold vediamo qua anche qua stessa cosa ogni volta che apriamo ctrl x ctrl x è lo shortcut che troveremo qua su function remove silence from audio region ctrl x è molto più ovviamente veloce ed ecco che io vado a pulirmi tutto visivamente così vedo esattamente dov'è che suonano le parti e dove no e poi una una costituzione che ho io sempre è andarmi poi a colorare diversamente le regioni perché comunque mi piace sempre avere un'idea gli overred li vado a metterlo dopo i due kick li coloro uguali quindi option c faccio ad esempio rossi i due snare li vado a fare arancioni poi cos'è che abbiamo qua la hiat la hiat lo facciamo giallo gli overred li vado a mettere dopo i tom i due tom li faccio verdini di overred e la stanza li vado a fare azzurrini tambourine lo shaker clap ecco che qua ho comunque creato una una parte sicuramente interessante che adesso vado a chiamare glams che non è il solito midi e mi fa giocare mi fa giocare sicuramente meglio in fase che brutto questo lag in fase compositiva grazie per avermi seguito e come al solito i miei video sono buona la prima per non far perdere il tempo a quelli che mi guardano seguitemi e tutte queste cose qua sono scritte in maniera approfondita nei miei libri su logic disponibili in italiano inglese spagnolo francese tedesco e portoghese buona giornata e a presto ciao grazie grazie grazie